nuovo podcast per parlare un po' di quando vendere le azioni di solito ci si abitua a comprare le azioni e poi a venderle ci si fa un po' di problemi nel senso che quando ci si affeziona troppo non li si vuole vendere mai soprattutto non se le vende mai quando stanno in perdita in quel caso non si vende mai l'azione e questo è uno degli sbagli più grossi che si fa quando si investe l'azione non è che se va male non si vende se va bene allora siamo tranquilli che possiamo pure vendere perché stiamo guadagnando quindi quando vediamo verde nel nostro portafoglio allora possiamo vendere tranquillamente anzi certi fanno proprio questa cosa qui nel senso che quando sono in perdita su un'azione per un bel po' di tempo mesi se non anni ecco appena arrivano in positivo che vedono che la perdita si estingue se ci riescono allora subito la tolgono di mezzo e perdendosi poi alla fine tante tante occasioni che poi questa è una poi delle motivazioni per assurdo principali del perché si vende un'azione cioè quanto si è in guadagno su un'azione uno dei motivi principali del perché si vende è perché ci sono ci si pensa anzi si pensa semmai che ci sono altre azioni migliori quindi che ci si sta perdendo qualche affare da altre parti quindi è meglio vendere la nostra e poi prendere un altro affare semmai fare ancora meglio il che non è detto che è sempre così anzi certe volte si rimpiance la scelta di aver venduto non a caso uno dei detti in finanza è proprio quello di vendi e pentiti proprio perché perché molte volte capita proprio che quando cambi e investi su un'altra azione quindi su un'altra azienda e beh non è detto che fai gli stessi risultati quindi quando quando vendere e vendere ci sono tante motivazioni guardate per vendere in azione ne ho proprio tante anzi forse non so nemmeno se riuscirò a farla a fare una puntata con tutte le motivazioni del perché vendere le azioni in portafoglio forse farò due puntate difende quando mi allungo diciamo che se mi allungo più di un quarto d'ora farò due puntate quindi andiamo a vedere un po' bene o male quali sono le mie poi di quando vendere le azioni almeno quello che faccio io ognuno può avere le proprie motivazioni a volte ripeto ci sono alcune che vogliono vendere le proprie azioni semplicemente perché pensano che ci siano occasioni migliori ecco semplicemente mettiamola così ecco solo per questo motivo perché vedono un'occasione che loro pensano sia migliore perché ricordiamolo quando investiamo nel mercato ecco l'unica certezza che abbiamo del futuro è l'incertezza quindi non è scritto da nessuna parte che noi vendiamo una cosa e quella cosa andrà male e andiamo ad acquistare un'altra e quella va bene anzi certe volte non ci si pensa ma quando si vende un'azione dall'altra parte ci sta uno che compra cioè nello stesso momento c'è uno che non crede più in quell'azione però in quello stesso momento c'è un altro che la compra proprio perché crede in quell'azione e viceversa cioè quando noi andiamo ad acquistare un'altra azione cioè io credo in quell'azione però ci deve essere qualche di un altro che non ci crede più e ci vende l'azione altrimenti non è possibile fare questo scambio e partiamo dalle motivazioni una delle motivazioni che quando vendo un'azione che mi fa riflettere a me una motivazione su cui posso porre la riflessione sul perché dovrei vendere un'azione è sicuramente il fatto del business dell'azienda se è cambiato qualcosa nel business dell'azienda cioè io generalmente quando vado a comprare un'azione quindi un'azienda di fatto vado a vedere il business mi studio bene il business se vedo che questo business è cambiato perché nel tempo tutto cambia quindi se vedo che questo business è cambiato e beh qui potrebbe esserci una motivazione cioè è evidente che ci sono alcune situazioni come l'abbiamo visto a marzo scorso nel 2020 dove alcuni business per forza di cose devono cambiare perché è arrivato proprio quel periodo in cui non è che c'è più tempo per non cambiare facciamo degli esempi di aziende che non hanno cambiato il business e che terrei nel mio portafoglio e altre aziende che nel tempo per esempio devono per forza cambiare business altrimenti praticamente falliscono e quindi non vale più tenerle nel portafoglio facciamo l'esempio di Coca-Cola dove il business non è cambiato vendono quelle bibite cassate quello è il loro business non solo perché adesso Coca-Cola è molto molto di più però diciamo il business principale è quello e poi c'era Blockbuster o GameStop giusto per citarne una proprio di recente che si è parlata tantissima dove il business per forza di cose deve cambiare cioè perché materialmente in futuro non si compreranno più i DVD di videogiochi ma sarà tutto online evidentemente quindi è chiaro che qui cambiando radicalmente il business allora io potrei avere un'idea di non investire più in quell'azienda chiaramente questa cosa la si deve pensare prima cioè mi pare ovvio che arriviamo a marzo scorso dove dal mio punto di vista non c'è molto più margine per poter fare qualcosa nel senso che abbiamo visto che le cose che erano online quindi digitali hanno avuto si potevano vendere quindi quell'azienda poteva avere un margine un profitto quelle che erano fisiche nelle sede fisiche c'era poco da fare non è che si poteva vendere qualcosa visti il lockdown quindi lì è stato praticamente il punto ultimo dove cambiare il proprio business nel caso di GameStop tralasciando tutto quello che è successo ultimamente su GameStop altre motivazioni beh proprio parlando di quello che è successo dopo marzo dopo in questa stagione di covid in questo ultimo anno mettiamola così e beh ci sono alcune volte che tu compri un'azienda e questa azienda praticamente esplode cioè nel senso che materialmente tutte le aziende che erano legate al digitale sono praticamente esplose non so la prima che mi viene in mente da zoom a tutte quelle correlate ma anche altri tipi di aziende che rappresentano il futuro in generale quindi un diverso modo per esempio di vedere la mobilità futura parlo in questo caso di Tesla ecco tutti questi tipi di aziende qua che sono esplose e beh se le hai in portafoglio ti devi incominciare a a fare il a chiederti se se queste queste aziende non sono un po' sopravvalutate cioè un domani che il covid sparirà e che ritornerà tutto come prima bene o male sarà una normalità diversa ovviamente ma comunque ci sarà le cose funzioneranno bene o male come prima e beh la credo che l'azionario incominciava un po' a a a a a fare uno scambio di liquidità nel senso che i soldi passeranno da un reparto da un settore all'altro eh visto che adesso ci sono oggettivamente delle azioni molto sottovalutate altre molto sopravvalutate non c'è più equilibrio tra i settori basta vedere la capitalizzazione delle aziende più grandi al mondo e sono tutte aziende tecnologiche giusto per dirne uno questo non significa che le aziende tecnologiche non faranno bene significa che non faranno bene come hanno fatto nell'ultimo anno nel senso che che molti si sono buttati su quelle aziende là giustamente perché perché non è che c'era molta alternativa quelle erano le aziende che avrebbero fatto dei profitti come si è visto tra l'altro nelle ultime trimestrali quindi questa potrebbe essere un'altra motivazione cioè capire cioè far avere proprio la netta sensazione che quell'azienda sia stata veramente pompata pompata tantissimo al di là di ogni di ogni fondamentale mettiamola così un'altra motivazione che potrebbe essere una motivazione mettiamola così soggettiva ecco parliamo parliamo di motivazione soggettiva a questo punto e cioè quando quando noi investiamo in qualcosa bene o male un po' di tempo per seguirla ci vuole cioè per tutte le motivazioni che abbiamo detto prima e cioè le motivazioni del il business è cambiato o no comunque devi seguirla l'azienda altrimenti non sai se è cambiato o no il business se è sopravvalutato o no comunque la devi seguire quell'azienda là per capire bene o male se è sopravvalutata devi seguire il mercato cioè ci sono alcuni valori su cui ti rendi benissimo conto nei fondamentali che è molto sopravvalutata basta andare a vedere il PE il prezzo utile per esempio della tua azione rispetto a tutto il mercato allo stesso mercato del allo stesso mercato quindi allo stesso settore no se parlavamo di di Tesla vai a vedere tutte le azioni dell'automotive e vedi che il PE di Tesla è molto molto più grosso rispetto a tutte le altre tutti gli altri concorrenti allora capisci che è molto sopravvalutata giusto per prendere un riferimento chiaro ed evidente e come dicevo poi c'è una questione soggettiva nel senso che poi tu devi avere tempo per seguire tutte queste cose e ci sono invece momenti in cui tu non riesci a seguire tutto visto che tu non investi in un'azione ma generalmente si investe in un pacchetto si diversifica molto in tante azioni e ci sono periodi in cui tu per tanti motivi quindi familiari di salute di lavoro potresti non avere più il tempo di seguire tutto e quindi questa potrebbe essere un'altra motivazione per dire guarda ho non so 30 azioni da seguire e ne voglio seguire 15 ne voglio seguire 20 perché non posso seguirle tutte ovviamente e questa chiaramente più derivante dall'azione che ha acquistato è una motivazione del tutto soggettiva che però è molto 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 importante ed è un ragionamento che si dovrebbe fare anche prima di acquistare queste aziende da qui c'è un'altra motivazione correlata ed è la motivazione correlata a una questione economica cioè questa potrebbe essere un'altra motivazione di cui tra l'altro l'ho spiegato anche anche bene delle questioni economiche sul gruppo sul gruppo facebook che ricordo perché ancora non si è scritto dove parliamo di tutti questi argomenti legati alla finanza gruppo gratuito dove diamo informazione gratuite dove parliamo di tanti argomenti che si chiama cambiare tutto cambiare subito previsioni sull'economia e la finanza se non vi siete iscritti iscrivetevi è un gruppo privato dove parliamo semplicemente di quello vi potete anche confrontare potete chiedere delle cose ci sono delle persone chiaramente con dell'esperienza che vi rispondono canale assolutamente gratuito e vi dicevo questo potrebbe essere un'altra motivazione cioè quella legata alla questione soggettiva economica volevo dare uno sguardo a quanto tempo già è passato quasi un quarto d'ora avevo avevo detto praticamente che se mi prolungavo troppo avrei fatto due puntate facciamo due puntate così ne posso parlare con più tranquillità di altre almeno tre motivazioni per cui vendere un'azione non solo per una questione tecnica quindi dell'azione in sé per sé come ho spiegato nelle prime motivazioni ma anche per questione soggettiva come questa prima di chiudervi e quindi di di continuare a dirvi cosa parlerò dei prossimi episodi nella seconda parte vi ricordo che se volete investire bene date un'occhiata al mio patreon patreon.com slash cambiaretutto chiaramente tutti i link e le informazioni le avete dentro la descrizione del podcast nella info o descrizione del podcast lì ci sono tutti i link se volete informazioni su patreon o su investire in generale potete contentarmi chiaramente gratuitamente e vi dico la mia opinione quindi patreon.com slash cambiaretutto e vi dicevo la prossima puntata quindi la seconda parte incomincieremo proprio da questo e cioè come può influenzare la questione economica soggettiva rispetto al vendere un'azione oltre che almeno altre tre motivazioni quindi se trovate una di queste motivazioni quando avete nel vostro portafoglio delle azioni e beh riflettete vedete se venderle vi do l'appuntamento quindi alla seconda parte del podcast ricordandovi sempre che siete sotto sempre sotto il fuoco nemico oltre che e oltre che